Lula è nuovamente il presidente del Brasile, per la terza volta dopo aver sconfitto al ballottaggio per una manciata di voti, il presidente uscente Jair Bolsonaro. Dal continente asiatico invece arrivano due notizie tragiche, il crollo di un ponte in India che ha causato circa 140 morti e la morte di 150 ragazzi e ragazzi per lo più ventenni a Seoul in Corea, mentre festeggiavano Halloween in strada per via della calca. Infine parliamo dell'acquisizione divenuta ufficiale nel fine settimana di Twitter da parte di Elon Musk, delle sue prime mosse d'asseo e di cosa questo potrebbe comportare. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 31 ottobre 2022 e questa è la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Luis Inacio da Silva per tutti Lula è il nuovo presidente del Brasile, ha vinto per un pugno di voti in uno scrutinio al cardiopalma, come direbbe qualche commentatore sportivo, in cui per più della metà del tempo Bolsonaro è stato effettivamente avanti e al termine fra l'altro di giorni altrettanto infuocati, tesi violenti, in cui è successo un po' di tutto. Lula ha vinto con il 50,9% delle preferenze contro il 49,1% di Bolsonaro e diventa così presidente del Brasile per la terza volta. Il suo primo discorso da presidente a caldo ha richiamato alcuni concetti chiave, Lula ha detto che è stata una delle elezioni più importanti per il Brasile e che oggi c'è un unico vincitore, il popolo brasiliano, che non è una vittoria mia o del partito ma di un immenso movimento democratico e che la maggioranza del popolo ha lasciato detto chiaro che desidera più democrazia e non meno, vuole più libertà, più agguaglianza e più fraternità. E infine ha un aspetto che mi è sembrato interessante, in linea anche con questi altri messaggi, che ha voluto iniziare il suo discorso ringraziando Dio per avermi permesso di uscire da dove sono uscito, il carcere, sottointeso, e arrivare, dove sono arrivato. Il che mi pare, voglio mandare, se leggiamo appunto tutti questi messaggi messi assieme, una sorta di messaggio, scusate la ripetizione, a tutta la popolazione e non soltanto al suo elettorato, dopo che invece la campagna elettorale è stata giocata soprattutto da Bolsonaro molto sulla polarizzazione e anche sul convincere la sua parte di elettorato che Lula fosse una sorta di demonio e che avrebbe ad esempio fatto chiudere le chiese se fosse stato eletto, e da qui forse anche il messaggio e il ringraziamento a Dio in primis con cui si apre il suo messaggio. Comunque, prima di commentare il fatto in sé questa elezione, merita dare uno sguardo ad alcune cose che sono successe durante e subito prima dell'elezione stessa. Per darvi un'idea del clima sereno e disteso che regnava in Brasile e con cui si è andati a votare, basti pensare che già a settembre la Corte Eletorale Superiore, la TSE, aveva vietato il porto di armi da parte di collezionisti, tiratori e cacciatori il giorno delle elezioni e anche nelle 24 ore prime precedenti e successive, pena l'arresto in flagranza di leato per detenzione abusiva di arma. Questo perché appunto di nuovo, soprattutto Bolsonaro, aveva in primis armato con leggi molto libertari sul porto d'armi, buona parte della popolazione, permesso di comprare delle armi molto facilmente fino a quattro a testa, come ci dicevano i nostri ospiti durante la prima puntata di Un Mere Sogno Più, e poi ha lanciato anche certi messaggi piuttosto violenti che strizzavano l'occhio quasi a un golpe in caso di vittoria di Lula. Comunque questo bando delle armi da parte della Corte Eletorale non sembra aver fermato diversi bolsonaristi e per bolsonaristi non intendo seguaci o lettori ma proprio deputati o alleati politici. Ad esempio ci sono vari video che stanno girando in queste ore che documentano nella giornata di ieri una deputata federale, Carla Zambelli, estrarre una pistola e mettersi all'inseguimento di un uomo in uno dei quartieri più ricchi di San Paolo. Più tardi la deputata ha sostenuto di essere stata aggredita per prima, mentre alcune voci riprese inizialmente dai giornali volevano l'uomo un elettore di Lula che forse le aveva detto qualcosa. Non si sa ancora bene, sono alcune ricostruzioni fatte da alcuni giornalisti in loco, non si capisce però onestamente che cosa è successo ma è evidente perlomeno che la disposizione della Corte la deputata non l'ha esattamente rispettata perché girava con un'arma in mano. Invece la domenica precedente l'ex deputato di estrema destra e alleato di Bolsonaro Roberto Jefferson aveva resistito a un arresto per rivelazione della libertà vigilata sparando 50 fucilate e lanciando due granate contro quattro agenti della Polizia Federale. Ora, se uno ha delle granate in casa, anche qui, non è esattamente un ottimo segno. Tornando alla giornata di ieri invece, secondo quanto riportato dalla redazione del Fatto Quotidiano e da altri media internazionali, a un certo punto la Presidente del Partito dei Lavoratori il partito di Lula quindi, Glazey Hoffman, ha chiesto l'arresto del Direttore Generale della Polizia Stradale Federale Brasiliana per via di una serie di disservizi che sarebbero stati creati appositamente per impedire agli elettori, soprattutto nelle regioni più povere quindi dove Lula era dato come favorito, di andare a votare. Che poi disservizi, qui parliamo di veri e propri blitz della Polizia Stradale Federale che con la scusa di controllare la situazione avrebbe ostacolato nella pratica il voto al punto da spingere la Corte elettorale superiore, di nuovo, a ordinare di sospendere subito questi controlli anche perché i controlli, in questo caso parliamo di controlli della Polizia che controllava se le persone sui mezzi pubblici, ad esempio, avessero i biglietti avevano molto poco senso, dato che la legge brasiliana prevede che per le elezioni si possa viaggiare anche senza biglietto in modo da permettere anche alle persone più povere di recarsi a votare In particolare, la situazione più grave sarebbe registrata nello stato di Minas Gerais secondo collegio elettorale per numero di votanti e considerato decisivo per il risultato finale di questo secondo turno dove addirittura la metropolitana del capoluogo, Belo Horizonte, ha liberato l'accesso ai cancelli solamente in tarda mattinata dopo una intimidazione del sesto tribunale regionale E una situazione simile è avvenuta anche nella vicina città di Uberlandia dopo una serie di denunce al pubblico ministero in base alle quali alcuni passeggeri sarebbero stati obbligati a pagare lo stesso il biglietto dell'autobus per potersi dirigere al seggio elettorale Ed è una situazione paradossale che però, se avete visto la puntata sul Brasile di Io non mi rassegno più il che, tra parentesi, significa anche che siete abbonati a Italia che cambia e che quindi siete delle belle persone non vi stupirà perché Paolo Lima, uno degli ospiti, ci raccontava che gli stessi disservizi succedevano persino in molte sedi italiane in cui si poteva andare a votare per le elezioni brasiliane per i residenti brasiliani in Italia visto che le votazioni erano state organizzate dall'ambasciata e insomma c'erano anche lì dei dubbi che forse questi disservizi, queste lunghissime file non fossero del tutto casuali anche perché i residenti all'estero i brasiliani e i residenti all'estero sono in maggioranza a favore di Lula, quanto dicono i sondaggi va bene, facciamo qui qualche considerazione in generale su questa elezione anche se ovviamente considerazioni un po' acerbe visto il poco tempo trascorso la prima è che fin qui Bolsonaro non ha rilasciato alcuna dichiarazione e anzi sembra essersi isolato scrive Lauro Jardim sul quotidiano brasiliano O Globo sconfitto, Jair Bolsonaro non vuole ricevere nessuno ai ministri e a deputati che hanno cercato di fargli visita questa domenica dopo i risultati delle urne è stato detto che il presidente non vuole vedere nessuno in questo momento nemmeno i suoi più stretti alleati il che non so esattamente come leggerlo potrebbe anche non essere un'ottima notizia viste le voci che avevano preceduto le elezioni sul fatto che l'ex presidente potesse non accettare la sconfitta un po' come aveva fatto Trump alla vittoria di Biden ma staremo a vedere, è molto presto anche qui per capire cosa significa il silenzio di Bolsonaro perché essendo un silenzio per adesso dobbiamo prenderlo così com'è lo scopriremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni la seconda considerazione è che invece l'elezione di Lula è un'ottima notizia per le popolazioni indigene per l'Amazzonia, di conseguenza anche per il mondo intero vi rendo conto che in questo caso vengo un po' meno alla neutralità e oggettività che richiederebbe il mio ruolo ma devo dirvi che questa notte quando alla fine si è capito che Lula aveva vinto ero molto felice di questa cosa la terza è che Lula avrà comunque vita dura in un Parlamento brasiliano con un forte blocco di centrodestra dominato dalle cosiddette 3B ovvero i tre gruppi di interesse più forti che ci sono nel Parlamento e in generale nel Paese B che stanno per Buoi, quindi Bovini, Agribusiness, Latifondisti, quel settore lì Bibbia, quindi la Chiesa, soprattutto la Chiesa Evangelica, molto potente adesso in Brasile e Bala, che sarebbe il proiettile, quindi la lobby delle armi e che quindi non è detto, anzi è probabile che adesso non è che improvvisamente sarà tutto rose e fiori di nuovo per indigeni, Amazonia, mondo e ci sarà comunque da tenere gli occhi molto aperti la quarta cosa è che al netto della mia personale contentezza del fatto che alla fine abbia vinto Lula è impossibile non notare per me che c'è una discreta componente di fortuna in tutto ciò se il voto fosse stato fra una settimana o fra un mese chissà, magari avrebbe vinto Bolsonaro, parliamo di neanche un punto percentuale di differenza in un Paese che è molto diviso, molto polarizzato 2 milioni e poco più di voti in un Paese da 214 milioni di abitanti il che fa la differenza fra un governo Bolsonaro e un governo Lula che comunque la si possa pensare sono un po' gli antipodi sono due visioni del mondo completamente diverse e mi chiedo, davvero ha senso affidare delle cose così importanti la gestione della cosa pubblica, la gestione di uno Stato fra l'altro in questo caso il Brasile uno Stato ricchissimo di biodiversità culturale, sociale, ambientale a un sistema così volatile cioè possiamo permetterci di affidare il nostro destino in un momento così cruciale per il mondo ancora a un sistema obsoleto come le elezioni a maggioranza poi intendiamoci, per carità, c'è anche di molto peggio in giro e in un sacco di posti non c'è nemmeno quello non c'è neanche la possibilità di eleggere un governo perché il governo è quello punto nelle dittature o pseudo dittature che ci sono in giro il problema però è che il meglio che vediamo attorno a noi è comunque gravemente insufficiente per far fronte alle sfide che l'epoca contemporanea ci pone davanti ma di questo non apro qui la parentesi enorme perché abbiamo già in mente un'altra scatola in cui approfondire molto questo tema qua e vi daremo notizie nei prossimi giorni questa volta non è quella classica frase che dico sì ne parliamo un'altra volta ma c'è già esattamente un luogo in cui parleremo molto nel dettaglio di questa cosa qua ma ve lo dico fra un po' va bene, passiamo a altre notizie la festa per la vittoria di Lula su Bolsonaro è offuscata da due notizie tragiche che ci arrivano dall'Asia due tragedie di grosse dimensioni il crollo di un ponte in India e una festa di Halloween finita in massacro in Corea del Sud in entrambi i casi hanno perso la vita circa 150 persone nel primo caso ci troviamo nello stato del Gujarat in India spero che la pronuncia sia anche vagamente corretta il ponte sospeso crollato era di epoca coloniale e cosa abbastanza assurda era stato riaperto al pubblico solo quattro giorni fa dopo alcune riparazioni e dei lavori di manutenzione tant'è che adesso la ditta è sotto processo insomma lo Stato gli ha fatto causa comprensibilmente i funzionari locali hanno detto che il ponte ha ceduto perché era sovraccarico di turisti a corsi per la stagione dei festival i festival Hindu e che quindi il cavo, un cavo di acciaio di quelli portanti si è spezzato non si sa ancora quante siano esattamente le persone che hanno perso la vita ANSA parla di almeno 120 Repubblica di almeno 132 The Indian Express di almeno 133 Today di almeno 141 vi riporto i dati della mattina del 31 ottobre insomma poi purtroppo si sa che questi dati in genere sono destinati a salire quando ancora non sono definitivi anche perché l'unica parola ricorrente su tutti i media è almeno il che appunto nella consuetudine giornalistica significa che questa macabra conta delle vittime probabilmente è destinata a salire nel secondo caso invece ci troviamo a Seoul capitale sudcoreana in un piccolo tratto di una minuscola stradina di 45 metri della capitale qui sono morti la notte fra sabato e domenica 154 ragazze e ragazzi la maggior parte ventenni 97 donne e 57 uomini quasi tutti coreani soffocati e soffocate schiacciate in una calca assurda mentre stavano festeggiando Halloween le autorità hanno detto che si trattava di una calca spontanea quindi non di un evento programmato anche se ci sono polemiche per il ritardo dei soccorsi non sono chiarissime qui ancora le dinamiche dell'accaduto ma come spesso accade in questi casi la causa principale sembra essere proprio il panico dovuto alla calca stessa che a un certo punto è diventata eccessiva e ingestibile ora è sempre difficile commentare eventi come questi e dire qualcosa di sensato che vada al di là del cordoglio e del dispiacere e del... sì, del dispiacere per la profonda, tragica perdita di vita umane c'è, ci sono però alcune cose alcune considerazioni che possiamo fare innanzitutto c'è un elemento che lega le due tragedie che dalla nostra prospettiva sono entrambe... avvengono entrambe in luoghi lontani sia fisicamente ma soprattutto nel caso dell'India molto anche culturalmente quindi in luoghi in cui ci sembra più normale che cose come queste possano accadere con quella sensazione di cui abbiamo già parlato in passato per cui se fatti come questi avvengono in appunto paesi che ci appaiono molto lontani da noi perdono anche di importanza nella nostra percezione, in quella mediatica e così via qui mi riferisco soprattutto appunto alla prima notizia quella del crollo del ponte che oggi è sulle homepage dei giornali seppur in posizioni abbastanza defilate e probabilmente è destinata a sparire velocemente pensiamo se invece una cosa del genere fosse successa negli Stati Uniti o in Francia o in qualche paese occidentale che sentiamo molto più vicino al di là dei chilometri che ci separano nel secondo caso invece parliamo di una città che è meno distante culturalmente perché è intrisa di cultura occidentale, statunitense non a caso stavano festeggiando Halloween e quindi la distanza culturale è sicuramente minore ma c'è comunque una riflessione interessante che mi suggerisce Daniel Tarozzi, direttore responsabile di Italia che cambia che è legata al tema delle megalopoli perché Seul è una città di quasi 10 milioni di abitanti in cui inevitabilmente la vita umana perde un po' di significato anche solo per mere questioni di proporzioni rispetto al tutto rispetto alla quantità complessiva di persone che ci vivono e anche questo fatto, questa tragedia peraltro sinistramente legata proprio ai festeggimenti di Halloween sarà forse velocemente riassorbito oltre che dalla stampa nostrana anche dal rumore di fondo della tentacolare, rutilante, rumorosa e incasinata metropoli e forse lascerà i suoi segni più nell'inconscio collettivo che nella memoria collettiva e poi vorrei fare un'ultima considerazione legata proprio alle folle al concetto di calca perché la nostra specie Homo sapiens non è in grado di gestirla bene cioè non è proprio in grado di gestirla istintivamente non siamo come gli storni o le sardine o tante altre specie che sono in maniera innata capace di muoversi in gruppi come se fossero un unico corpo no, la nostra specie si è evoluta in gruppi di massimo 100-150 persone peraltro in spazi molto ampi parliamo della savana africana dove la nostra specie ha avuto la sua culla e per cui la folla da un lato ci attrae cinebria proprio perché ci stordisce con questi troppi input a cui il nostro cervello non è abituato parlo proprio fisicamente per come si è sviluppato dall'altro può trasformarsi in un'arma di distruzione di masse potremmo dire con un macabro gioco di parole se scatta il panico e quindi ecco è una roba da maneggiare con molta cautela e con le dovute precauzioni se no rischiamo di fare queste cose qua va bene, ci sarebbero un sacco di altre notizie importanti da dare oggi qui mi limito a un'ultima notizia quella dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ma vi segnalo diversi articoli su altri fatti interessanti sotto fonti e articoli in fondo alla pagina rassegna stampa di talelecambia.org allora, questione Twitter e Elon Musk è arrivata all'ufficialità in Italia è arrivata prima dell'alba del 29 ottobre Musk ha infine, dopo un lunghissimo waltzer ratificato l'accordo siglato ad aprile scorso ovvero 44 miliardi di dollari complessivi quindi 54,20 dollari per azione per l'acquisto di Twitter e ha dato la notizia un po' a modo suo proprio con un tweet in cui ha scritto semplicemente the bird is free ovvero l'uccellino, simbolo del social network è libero ora, tutti si chiedono cosa vorrà fare esattamente l'uomo più ricco del pianeta con lo storico social network riuscirà a risollevare dal punto di vista degli utenti e dei guadagni ne manterrà il taglio più giornalistico che lo caratterizza oppure lo stravolgerà? sul sole 24 ore Biagio Simonetta inquadra così la questione scrive una piattaforma fra le più antiche della galassia social che ora lo stesso Musk sarà chiamato a svecchiare e a migliorare perché Twitter nella storia più o meno quindicinale dei social network è sempre sembrato il fratello sfortunato quello che non ce l'ha fatta al cospetto della dissennata crescita dell'impero di Mark Zuckerberg conti in disordine utenti in calo investitori in fuga se ho che vanno e poi tornano la storia dell'uccellino blu è zeppa di controversie e per quanto possa sembrare paradossale a tenerlo vivo negli ultimi anni è stato il contestatissimo Donald Trump oggi fuori ancora per molto punto di domanda dal social di Market Street ma fino a un paio d'anni fa account che creava maggiore interesse che vuol dire anche consenso e discussione questo racchiude un po' effettivamente la storia degli ultimi anni di Twitter mi è sembrato interessante leggervi questo passaggio fatto sta che non sappiamo ovviamente moltissimo di quello che vorrà fare Musk ma qualcosina sì anzi qualcosa ha già fatto perché di certo c'è che Musk ha intenzionato a fare piazza pulita di diversi dirigenti e dipendenti anzi dei dirigenti più o meno l'ha già fatto perché ha immediatamente licenziato numerosi top executive del social network a cominciare dalle cariche più alte quindi amministratore delegato e direttore finanziario sempre l'articolo del sole sottolinea fra l'altro che nella giornata di venerdì alcuni dei top manager licenziati sono stati scortati immediatamente fuori dall'azienda a Market Street nel cuore di San Francisco per i dipendenti la questione è un po' più incerta ma diverse fonti parlano di un taglio di circa il 30% ci sono poi dei rumors delle voci di corridoio che parlano addirittura di un taglio del 75% che però Musk ha smentito un'altra cosa già decisa è che Twitter uscirà dalla borsa non sarà più quotato in borsa il che scrive Alessandro Alessio Nisi scusate su Agi fa sì che non sarà tenuta a rendere pubblici i conti finanziari sarà soggetta a un controllo normativo inferiore e potrà essere tenuta sotto un maggior controllo un controllo più efficace da parte del suo nuovo proprietario sempre l'articolo di Agi fra l'altro mette in luce alcune probabili direzioni di Twitter che Musk, diciamo assemblando alcune sue dichiarazioni sembra essere intenzionato a perseguire parliamo della integrazione della blockchain quindi anche delle criptovalute non so, probabilmente come metodo di pagamento o di altri tipi di transazione dell'implementazione di servizi premium quindi a pagamento più libertà di parola una società, una organizzazione più snella quindi appunto meno dipendenti rispetto ai 7500 dierni e infine il sogno di una super app in stile WeChat mi soffermo giusto un attimo su quest'ultimo punto che appare il più strategico e anche il più controverso quasi inquietante potremmo dire non so quanto sia una volontà reale o una sparata di Musk ma se questa fosse la direzione l'idea sarebbe di trasformare il social in una nelle sue stesse parole everything app ovvero una sorta di sportello unico per tutte le nostre esigenze quindi chat, pagamenti, social network, giochi, delivery di cibo prenotazioni di taxi e chi più ne ha più ne metta WeChat che è il modello di riferimento è infatti un'app cinese gestita da Tencent è la più grande app del mondo per quanto riguarda queste cosiddette super app e ha un miliardo e passa di utenti si stima che un cinese trascorra in media su WeChat un terzo della sua vita da sveglio e a giugno Musk aveva detto che non esiste un equivalente di WeChat al di fuori della Cina e aveva detto ai dipendenti di Twitter adesso i suoi dipendenti quindi penso che ci sia una reale opportunità per crearlo in pratica vivi su WeChat in Cina perché è così utile per la tua vita quotidiana e penso che se potessimo raggiungere questo obiettivo o anche avvicinarlo con Twitter sarebbe un immenso successo WeChat in Cina però, aggiungo io è anche l'app privata fra l'altro ma usata abbondantemente dallo Stato per ad esempio il tracciamento Covid per il loro equivalente del Green Pass e per tante altre cose che riguardano anche il cosiddetto controllo sociale in Cina e visto che la usi per qualsiasi cosa può bloccare immediatamente ogni tua attività Gabriele Battaglia raccontava sulla sua pagina Facebook Gabriele Battaglia giornalista inviato in Cina e nonché il nostro ospite nella prima puntata di Non Mi Restegno Più quella appunto sul capire la Cina contemporanea che non era riuscito a prendere la metro a Pechino perché il tampone che aveva effettuato non risultava, insomma il suo profilo non era stato ancora collegato su WeChat essendo arrivato da poco quindi il tampone non risultava e lui non riusciva a passare il tornello della metro perché semplicemente la sua app non lo abilitava e insomma WeChat è anche questa roba qua quindi occhio va bene, vorrei chiudere con una segnalazione cosa che non ho mai fatto però in questo caso durante la settimana scorsa mi sono imbattuto in un podcast davvero interessante di avvenire che si chiama Rotta Climatica e segue il viaggio di una persona, di un migrante climatico che dal Pakistan arriva in Italia ed è interessante perché racconta una storia personale e non solo il suo viaggio ma anche la situazione in Pakistan cosa l'ho spinto a partire e è veramente un'immersione sia nel tema dei cambiamenti climatici che in una cultura diversa e che in una rotta che ai noi sarà sempre più battuta per via appunto dei cambiamenti climatici e quindi ve lo segnalo perché l'ho trovata davvero interessante si chiama Rotta Climatica e lo pubblica Avvenire va bene, detto ciò io direi che noi ci possiamo salutare qua io vi do appuntamento a mercoledì perché domani è festa e quindi io mi rassegno non esce quindi noi ci vediamo mercoledì mi raccomando state bene, fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto